cari amici cari amiche l'auditor jesus christus chi ha detto che alzare la voce farsi sentire non serve a nulla a distanza di qualche ora dal mio video ma chiaramente non è stato soltanto il mio video sono state tutte le polemiche generate innescate proprio da questo spot malefico è giunta una nota dal comitato di controllo dell'istituto di autodisciplina pubblicitaria il quale ha dichiarato anzi ha ingiunto le parti coinvolte di desistere dalla diffusione quindi dello spot quello malefico quello che sostanzialmente denigrava la santa eucarestia della pubblicità ritenendola in contrasto con l'articolo 10 tra parentesi convinzioni morali civili religiose dignità della persona del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale che prevede che la comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali civili e religiose questa è una grande vittoria le polemiche innescate sono servite questo è un grande ringraziamento che arriva anche da san pio decimo come oggi ho citato nel video no quindi non siamo stati quei cristiani cristiani tiepidi che si sono fatti mettere i piedi in testa dal maligno ma bensì siamo stati quei cristiani forti carichi di spirito santo che hanno sconfitto il nemico avanti così la battaglia non è ancora terminata ce ne aspettano tante altre queste piccolina ce ne sono di molto più grandi ma con la fede ce la faremo sia lodato gesù cristo